Quanto hai preso a mano, perché? Dici, dici, quanto hai preso? Quanto? Ancelo, Ancelo! Questa mia l'ho preso a te! Come? Con tutti i sacrifici che facciamo con tua mano? Ti comprivo tutto quello che vuoi, tutti i soldi che spediamo per te e tu prendi tre. Hai ragione, mamma! E abbiamo l'appulanza! Viene! Viene l'appulanza! L'appulanza! Dovete chiamare il tuo Dattù? Dottore! Dottore! Viene l'appulanza! Ma come è successo? Eeeh, come è successo? E' mo' dobbiamo domare il prete! Chiama il prete! 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 No! Sì, come qui! Angelo, togliti! Questi ragazzi muoiono sempre giovani. Dovete chiamare il pechino! I pechino! I pechino! I pechino! I pechino! I pechino! E' poter smettere qualcosa al pubblico! Più! Più felici! Più allegri! Su! Andiamo! Più allegri! Dove stiamo? Come stiamo? Ah! Sono tre, sono tre! Bravo! Mi sono stato tre! Vole! 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 Volevo! Volevo a volar! Volevo! 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 è morto, dovete chiamare il dottore dottore è morto i ragazzi vogliono sempre così giovani dobbiamo chiamare il vecchino vecchino mannaggia come si è successo basta ma cosa state combinando ho detto felici ma non a questo punto troppo felice ricordatevi che noi stiamo a teatro dobbiamo dare il dramma dobbiamo trasmettere dramma più drammatico riso riso il sole mio è pronto a te ciao mamma ciao non ria mamma sono triste mi ha fatto ria mi ha fatto il cambio da scuola ma ti è ria mamma mamma non ti è ria mamma beccia mamma è scuola No, non è scuro, papà, ho fatto scuola. Espetta, ci sono voi! Papà, papà! Ho preso tre, papà! Ti ho preso tre, papà! Ti ho preso tre, papà! Ambulanze! 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 E' morto! E' morto! Ma com'è il successo? E' morto, vai la vita! E' morto! La mamma è Prey! Prey! Le spalle! Questi ragazzi, è che è morto nel gioco? chiamate un vecchino 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 e come succede? eh, amare di che colore la facciamo? basta, basta, ma quale colore è colore? che cos'è questo piagnistero? non si capisce nulla non si capisce nulla scandite le parole, ora facciamo così ripetetela, lenti, fate capire quello che dite, siate lenti fatelo capire non andava bene, no io vi pago, venti euro l'uno oh, non è mio non pronti ma di mia mamma come non è stai tutto bene stai scopando a terra sono appena uscito da scuola non è presa mamma è andata un un mariccio non non parla mi hanno detto non chiamare troppo che cosa è scopare ancora? no mandorla non si ho avuto il è il eh mamma hai ragione a me la pianta a me la pianta a buonanza a buonanza io 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 è morto è morto è morto il mio è morto devo chiamare il dottore 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 eh testato che è morto prova Doviamo chiamare il plane per me. E' morto. Che è andato? Prete! 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 Come ci state preoccupando? Muosti ragazzi, muoiono sempre i giovani. Benediamo. Chiamati un becchino. Becchino! 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 Lui è quello che è morto? Sì! Prendiamo le misure? Sì! E' quello che vuole. E' quello che vuole. E' quello che vuole mani. Ma quale mani e quale metro? Basta! State facendo scocciare tutti. Vabbè! 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 Allora, troppo lenti. Troppo lenti dovete essere più veloci, più veloci. Lenti sì, ma non in questo modo. Più veloci. Su! Vi voglio più veloci. Vabbè! O cambiato. Vabbè! Vabbè lui! Vabbè lui! Vabbè lui! Ma non è proprio un petto! Aspetta la soma! Ho fatto da nuovo! Presto! Presto! Prendo! Prendo! Amò! E qui 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 qui? Prendo! Mi sono andato! Presto! 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 Questi ragazzi muovono così su. Pekino! 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 il metro nuovo ma cosa fate? basta non ce la faccio più ma come vi devo far capire che non è così che vi voglio allora io no non mi sta bene non mi sta bene qualcosa di nuovo qualcosa di di diverso siate diversi facciamo o solo e a fine mi aspettavo Sandro aspetta tu devi fare la parte dell'uomo se dico diversa deve essere diversa o solo mio stambron da te ho detto uomo non ho detto o solo mio stambron da te o solo mio stambron da te o solo mio mamma 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 ti dice mamma dimmi a mamma dimmi o il papà chi è? mamma sono appena uscito da scuola con la professoressa ma quando hai pregato? abbiamo fatto il compito quanto è pregato? sul foglio e mi ha messo tre tre chiamma mamma papà angelo ma perché chiamiamo papi lo so chiamare papi papi dimmi come sei fresco papi oggi bellissimo papi spalle abbiamo fatto il compito a scuola tra un sorriso e un occhiolino ho preso te papi ammuranza 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 è morto dovete chiamare il dottore 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 stai chiusa è morto è morto ma siamo bisiti non siamo ragazzi ma dobbiamo chiamare il prete 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 Questi ragazzi muovono sempre un capposiccione. Ti ha fatto un becchino. Becchino! Via, ma dobbiamo vedere le misure, dovevo vedere! Oh! Molto che ho fatto! Mamma mia! Assurdo! BASTA! 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 E' così che vi volevo! DIVERSE! Ma no, ma no!